In presenza di numeroso pubblico si è svolta al velodromo Appio la riunione nazionale ciclistica con il concorso di Bartali, Guerra e di altri assi del ciclismo. La riunione è riuscita particolarmente interessante per la vivacità delle gare nelle quali si è imposto battesini alla media oraria di chilometri 46 e 337 metri. L'aeroporto